Il cantiere marmisti della fabbrica del Duomo è il punto dove di nuovo il marmo prende vita, di nuovo perché forma con i blocchi squadrati che scendono dalla cava di Candoglia e gli originali che giungono dal cantiere Duomo riproduce le figurazioni e dà come nuova vita le figure alle 4.400 statue che ornano il Duomo e lo fanno parlare ai fedeli e ai cittadini. Quindi è un luogo fecondo dove ancora queste cose succedono quando non è più possibile il restauro e quando è assolutamente necessario il rifacimento. Tutto questo avviene anche grazie a delle macchine di ultima generazione, delle frese in particolare, che sono delle grosse lame che con un movimento progressivo e graduale squadrano il blocco in modo da rendere poi necessario per gli scalpellini e per gli scultori lavorare soltanto sulla rifinitura, con questo preservando anche le loro condizioni di salute perché sono meno le vibrazioni assorbite dall'apparato muscolare e scheletrico, meno le polvere respirate e meno i rumori che ledono il timpano. Le macchine sono a controllo numerico, possono funzionare anche di notte, sono di fatto delle macchine computerizzate e questo è effettivamente un grande aiuto che la fabbrica ha dato ai suoi operai.